Non posso non rimpiangere Matteo Salvini e gli interni che almeno l'immigrazione finché c'è stato la fermata. Con queste parole il sindaco Alessandro Ghinelli commenta l'episodio di violenza avvenuto sabato notte nel sottopassaggio ferroviario che conduce a Campo di Marte con l'aggressione shock a una ragazza retina colpita senza un apparente motivo da un ragazzo del Mali con un violento pugno al volto. Un gesto inaccettabile, gratuito e immotivato per il quale le sue parole sono di biasimo e di condanna, detto il sindaco. Esprimo la vicinanza e la piena solidarietà mie personali e dell'intera amministrazione alla giovane vittima dell'aggressione. Episodi di violenza e offesa come quello da lei subito non trovano alcuna giustificazione. Mi aspetto che il responsabile di questo gesto vile, individuato e identificato venga punito per quanto commesso. E poi la chiosa finale di Ghinelli con il rimpianto di Salvini agli interni. Ed arriva in redazione anche la nota della Lega. Ora un delinquente è un delinquente senza distinzioni di provenienza, dicono dalla Lega, ma è innegabile che il numero crescente di episodi violenti e abusi della libertà personale derivino da cittadini immigrati. Ancora più preoccupante è il fatto che dopo un periodo di tranquillità il nuovo governo ha dichiarato che riaprirà i porti e saremo un'altra volta schiavi di questa politica immigratoria senza freni e senza controllo. La Lega non ci sta e combatterà con tutte le sue armi questo governo senza una logica.